Ho altri poster di questo tipo, ne ho 6-7, ma non ho il posto dove metterli in casa. Buongiorno, ti voglio far vedere due quadri che ho qui in sala, che non sono quadri, sono poster sostanzialmente, ma a me piacciono molto, sono semplici, non sono preziosi, ma mi ricordano molto il mio paese preferito, che è il Giappone, quindi te li faccio vedere. Allora questo, questo è un poster così carino di una persona in bicicletta, ma la particolarità di questo poster è che se tu guardi il poster con il telefono, usando un filtro di Instagram, questo poster diventa animato, come un cartone animato, quindi il ragazzo sulla bicicletta si muove, e le nuvole si muovono, è molto molto bello. Poi c'è quest'altro, che invece è un castello, un castello sospeso, un castello in aria, non lo so, non lo so esattamente come definirlo. In questa immagine vediamo che c'è del verde, c'è della vegetazione, c'è un pezzo di una montagna, e sopra c'è il castello. Come vedete questo quadro ha una cornice metallica, mentre questo poster non ha la cornice, ha soltanto queste barrette di legno. Ho altri poster di questo tipo, ne ho 6-7, mi piacciono veramente tanto, ma non ho il posto dove metterli in casa. E tu dimmi, hai quadri di questo stile o hai quadri veri, fatti con pennello e tela? Ok, ciao ciao! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!